Le vacanze sono alle porte. Per godersi il tempo destinato al riposo con serenità è necessario sempre adottare alcune accortezze. Per questo la polizia stradale in occasione delle partenze ha raccomandato a tutti gli automobilisti di mantenere una guida prudente e corretta, ribadendo quelle che sono le norme di buon comportamento da assumere prima di affrontare il viaggio verso le mete di villeggiatura. Dal check-up del mezzo al carico dei bagagli, dallo stato psicofisico con cui mettersi alla guida e il giusto uso delle cinture di sicurezza fino al rispetto dei limiti di velocità. L'estate è cominciata e in molti stanno già scaldando i motori per andare in vacanza. La voglia di mare e di montagna però non deve farci dimenticare i consigli della polizia di Stato per arrivare sicuri a destinazione. Innanzitutto accertiamoci che il mezzo con cui partiamo sia in condizioni di viaggiare. Oltre alla revisione pianifichiamo anche un check-up completo dal meccanico per verificare che tutte le componenti, soprattutto gli pneumatici, siano efficienti. Ricordiamoci di gonfiare anche la ruota di scorta. Quando facciamo una pausa in area di servizio ricordiamoci di verificare sempre che le portiere e i finestrini siano chiusi, anche quando usiamo il telecomando a distanza. Ricordiamoci poi di non lasciare in bella vista oggetti di valore come borse, tablet o computer. Mettiamoci alla guida solo se non siamo stanchi e dopo non aver mangiato troppo. In questo modo riusciremo a scongiurare un colpo di sonno. A proposito, per rimanere lucidi e recuperare energie è bene fare una sosta ogni due ore circa o anche meno se ne sentiamo il bisogno. Attenzione ai bagagli, sistemiamoli in modo da non compromettere la visibilità del conducente o la stabilità del veicolo. Ricordiamoci poi di non seppellire il triangolo o il giubbotto rifrangente sotto montagne di zaini, valigie e ombrelloni. In caso di imprevisto o di pericolo sono i nostri migliori alleati. Guidiamo con prudenza, guardando sempre davanti e senza distrarsi. Forse arriveremo qualche minuto dopo, ma le vacanze sono sempre lì ad aspettarci. Buon viaggio con la Polizia di Stato.